Ciao a tutti amici e finalmente siamo qui, ci ritroviamo per parlare di un grandissimo risultato, il Milan che ha battuto il Bologna 5-1 ieri sera a San Siro nella 34esima giornata di Serie A salendo a quota 56 punti in classifica. Un Milan che finalmente ha trovato ritmo e lucidità, un Milan che sicuramente è diverso dopo il lockdown, che ci sta sorprendendo ogni volta sempre di più e tutto questo merito anche del lavoro di Pioli che finalmente sta avendo risultati. Io vi saluto e continuiamo i nostri festeggiamenti e sempre ricordatevi come dico ogni volta a forza Milan. Un abbraccio da Martina Gio.